Oggi siamo a Roma in una giornata bellissima, carica di energie, che ha messo insieme tutti i ragazzi e le ragazze che quest'anno sono stati selezionati come changemaker, come mentor, insieme a quelli selezionati l'anno scorso. È un momento molto molto importante all'insegna della contaminazione. Chi si sente changemaker? Per me essere un giovane changemaker significa dare fiducia agli studenti italiani, creare delle strutture, dei programmi personalizzati per guidarli all'interno di tutto quello che riguarda la matematica. Essere qui oggi significa avere la possibilità di fare uno scambio di esperienze e di essere di conoscenze, in modo tale da attivare tutti insieme, tutti insieme, un cambiamento importante per la società di oggi. Essere changemaker vuol dire avere il coraggio di essere se stessi e di non compromettere le proprie visioni. È la visione che mi guida, non è tanto quello che accade che mi cambia la direzione dove sto andando. Per noi è importante essere partner di questo progetto e permettere in rete risorse, competenze e know-how perché i giovani siano i reali protagonisti del cambiamento e del futuro di questo paese. Gen.C è una grande piattaforma che vuole parlare di futuro, lo vuole fare attraverso il punto di vista dei giovani, non dimenticandoci mai che il cambiamento è però una dimensione intergenerazionale. Quindi lavorare insieme per far sì che questo paese possa avere una prospettiva di futuro e di cambiamento. E quindi per noi è un grande piacere poter contribuire, il nostro piccolo, a questo grande progetto di futuro che è Generazione C. Una generazione che ha bisogno di visioni piuttosto che di missioni. Visioni perché significa opportunità di scoprire innanzitutto se stessi e quindi il valore del contributo che si può portare a favore del cambiamento. Grazie a tutti.